Sanremo 2022, vediamo quali sono i cantanti, quindi i cantanti in gara Vi fornirò un elenco, sono in totale 25 i cantanti che si esibiranno dal 1 febbraio 2022 sul palco dell'Ariston di Sanremo Per i dico in ordine alfabetico, quindi dalla A fino ad arrivare alla Z Aghile Lauro, Aga Steven, Ana Mena, D'Argent Amico, Dito nella piega correttore, Elisa, Emma Marrone, Fabrizio Moro, Gianni Morandi, Giovanni Truppi, Giusy Ferreri, Xnob EU, Irama, Iva Zanicchi, la rappresentante di vista, le vibrazioni, Mabud e Blanco, Massimo Ranieri, Matteo Romano, Michele Bravi, Noemi, Ercomi, San Giovanni, Tananai Ed infine, ma non per questo di minore importanza, i buoni Human Sono questi 25 i cantanti in gara che si andranno a contendere la vittoria per quanto riguarda il festival della canzone italiana targato Sanremo 2022 Saranno capaci tutti? Secondo me sì, tutti sono cantanti piuttosto affermati, chi più chi meno c'è anche però qualche nome emergente, ma nonostante ciò tutti sono abbastanza validi Tra i nomi emergenti vi ricordo che c'è secondo me Matteo Romano che lo definisco un cantante, ripeto, piuttosto emergente In premis vi ringrazio per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, iscrivetevi, commentate In bocca al lupo a tutti e che il vincitore arrivi quanto prima Grazie a tutti